a questo punto vi vorrei presentare la band vi presento questo straordinario gruppo che mi accompagna, mi avvolge, mi aiuta, mi spinge, mi dà e fa, fa, fa è il miglior gruppo che c'è in circolazione sì, 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 anche qua nel UK UK? esatto, UK quindi qua nel UK non abbiamo proprio, 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 proprio timore di nessun confronto nessun confronto e adesso noi sapete, siamo gente che amiamo sfidare e di solito non perdiamo mai anche perché quando sfidiamo siamo sicuri di vincere siamo fatti così beh, allora, siamo fatti così dicevo, allora, questo gruppo straordinario eh che adesso ma però prima, aspetta, volevo dire una cosa volevo salutare il Gallo ah, il Gallo volevo salutare il Gallo perché il Gallo diciamo che quest'anno ha sfiorato gli ometti come si dice nella nostra parte, no? e ha avuto un problema molto, molto, molto grave eh, diciamo un vero problema grave di quelli veri, seri, gravi una guerra durissima che ha dovuto combattere quest'inverno è che ha vinto incredibilmente ha vinto eh, eh, entriamo a me è bene, per esempio a dire, chi ci ammazza noi? era un famoso detto chi ci ammazza noi? nessuno! come dicevamo negli anni 80 quando belevamo ancora molto adesso non beviamo più ma negli anni 80 chi ci ammazza noi? nessuno! oh, voi non ditelo, eh cose che non dovete rifare a casa eh, quello che quello che facciamo noi voi non dovete rifare a casa, eh questi esperimenti qua mi raccomando siamo esperimenti da non ripetere a casa va bene? va bene? è così diciamo apposto l'abbiamo detto con la revisione, sì? ecco, l'ho sentito bene la De Filippi la... bene, bene tutti gli altri la tv la tv ecco, le sigarette le sigarette, sì lo sapete che fanno malissimi? voi non dovete fumare dovete lasciare fumare solo me chiaro? ecco voi tante altre cose potrei dire, eh ma diciamo dopo il gallo ah, dopo il gallo viene il bello dopo il gallo viene il bello e il chitarrista più bello del mondo è Stefan poi abbiamo alle tastiere e tutte le cose che suonano che soffiano tutti gli effetti speciali freggy questo Hollywood poi abbiamo un effetto speciale in carne e ossa che è che è Clara Moroni alla batteria Matt Locke che è il batterista dei miei sogni faccio i cookie che è sempre più biondo e non so perché qua chi tocca i rocchetti che è la colonna di questa struttura poi chi dimentica eh faccio i sogni che sta sempre bene quante defiazioni hai quante defiazioni hai quante defiazioni hai quante defiazioni hai eh e non mi dire che sei puro come un giro che sei un padre che c'hai un figlio credi che basti a me un figlio per essere un uomo e non un figlio eh eh quante defiazioni hai quante defiazioni hai quante defiazioni hai quante defiazioni hai quante dai che sai lo devi venire come un e acqua cammetti che è una dubizione anche eh e si potrebbe essere il tuo figlio quante morte quante dai ci hai pensato me lo è più bello il cattimorio fuori del vacazioni quante defiazioni hai quante defiazioni hai quanto defiazioni hai quun Quante deviazioni Quante deviazioni hai? Quante deviazioni hai? Quante deviazioni hai? Quante deviazioni hai? Sottività, no! Non so, 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 non so. Eh sì, potrebbe essere il mio. Quante volte! E non un coniglio! Quante dimensioni! Quante dimensioni! Quante dimensioni! Quante dimensioni! Una canzone vecchissima scritta E volevo dire quanti Insomma quanti ognuno di noi abbiamo Diciamo così, le proprie deviazioni Non dico perversioni Non dico perversioni criminali Sto parlando di deviazioni che non fanno male a nessuno Ma agli altri Quando non fai male agli altri Va tutto bene secondo me Allora adesso il problema grosso è questo Nel mondo moderno soprattutto La televisione e tutto Che vuole tutti omologati, tutti uguali Non accetta più quelli che hanno delle Dei comportamenti diciamo così Di vita diversa Non li accetta Non solo li immagina Ma li condanna anche moralmente Li condanna Condanna morale Cioè Condanna morale Cioè io sono moralmente peggio di te Perché fumo delle sigarette Prova la peste Sono moralmente peggio di te Sono moralmente peggio di te Perché ho dei visi diversi Nei tuoi Pazzesco Allora bisogna sospendere un po' tutti questi commenti Perché addirittura La religione cristiana ad esempio Diceva che si condanna il peccato Ma non il peccatore Adesso dico Vabbè Non è che tutti ci prendiamo più Però Ne faremo una nuova Bene Nella nuova mettiamoci il nostro concetto Condanniamo il vissio Ma non il vissiatore Eh? Carino che ci vuole Che è venuta così poi il vissiatore Ma soprattutto volevo dire una cosa che Vorrei ricordare un'altra faccenda che Allora Nei dieci comandamenti C'era scritto Non rubare Non c'era scritto Non fumare Eh? Bene Adesso andiamo avanti